Una buona giornata, buon sabato e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di Green Pass obbligatorio per il personale scolastico. Chi non avrà la certificazione, infatti, sarà sospeso senza stipendio. Nelle università, inoltre, l'obbligo sarà esteso anche agli studenti per garantire le lezioni in presenza. Secondo i sindacati sono molti i punti critici, tra cui il nodo del trasporto pubblico, il servizio di Giuseppe Dintino. La sicurezza non può essere a carico dei lavoratori, quindi non si può imporre a un dipendente di dover sostenere i costi di un Green Pass, cioè dei tamponi per ottenere un Green Pass, se la persona non può essere vaccinata. Il governo ha deciso, dopo ristoranti, palestre, cinema e stadi, il Green Pass sarà obbligatorio anche a scuola e nelle università. La certificazione sarà necessaria per il personale scolastico. I docenti che non l'avranno, dopo cinque giorni, saranno sospesi dal servizio e dagli stipendi. Negli Atenei, inoltre, il Green Pass sarà obbligatorio anche per gli studenti. L'obiettivo è quello di garantire le lezioni in presenza, ma anche in questo settore le perplessità non sono di certo poche. Sicuramente potranno essere fatte molte più azioni per garantire la sicurezza nella scuola. Questa è un metodo per distrarre dalla reale attenzione. Innanzitutto qui non stiamo parlando di fruitori del servizio, non di chi va al ristorante, di chi va al bar, ma di chi ci lavora. Quindi di chi è impiegato all'interno della scuola, oltre che degli stessi studenti. In Abruzzo si tornerà sui banchi di scuola il 13 settembre, cioè sette mesi dopo l'avvio della campagna vaccinale dedicata al personale scolastico. Considerando che il Green Pass ha valore per soli nove mesi dall'immunizzazione, con ogni probabilità nel giro di un paio di mesi ci si ritroverà a punto e a capo, con i lavoratori non più idonei al servizio. Altra questione è quella del trasporto pubblico, certificazione obbligatoria per i lunghi tragitti, ma non per le corse ordinarie. E' assurdo far rispettare le regole dentro la scuola e poi priva di entrare a scuola e dopo che escono da scuola i ragazzi sono abbandonati a se stessi. All'interno del sistema di trasporti nessuno controlla, non c'è una rete adatta, gli autobus vanno pieni, li vediamo tutti, insomma, quindi li abbiamo visti durante il periodo scolastico pieni come al solito. I primi giorni di Green Pass e subito perplessità tra i ristoratori della città di Pescara. A denunciare le difficoltà di gestione, Riccardo Padovano, presidente della Confcommercio Pescara. Riccardo Padovano, è ufficiale l'utilizzo del Green Pass all'interno di esercizi, soprattutto ristoranti che non hanno posti all'esterno. Come è andato il primo giorno allora? Il primo giorno è una grande confusione perché ieri sera, già da ieri mattina, tanti titolari di ristoranti pensavano che il Green Pass non era dovuto al controllo all'ingresso ma senza il controllo all'ingresso significa che ogni titolare di un ristorante deve assumere una persona che sia abilitata e in questo contesto non può essere il giovane di turno, deve essere una persona preparata, quindi è la stessa figura che sta all'esterno delle discoteche. E quindi comincia ad essere un costo ancora di più. Se noi continuiamo a far pesare alle imprese tutto il costo di questa pandemia, rinunceranno di aprire per la primavera. È vero che questo qualcuno ci dice che serve per invogliare la gente a fare il vaccino. Beh, se è così, incominciamo a dire qualcosa di più verso quei cittadini che non si vogliono fare il vaccino. Non è che non può ricadere la negligenza, perché io dico chi non vuole fare il vaccino perché vuole essere negligente, è nei confronti di chi ha impresa, tipo la ristorazione, il matrimonio e tutto quello che avviene. Ieri sera il mio telefono fino alle 10, alla fine meno male che la batteria si è scaricata, non ne potevo più. Quindi dopo chiusure a causa del Covid ci possono essere innesime chiusure questa volta a casa di un Green Pass che doveva essere il veicolo per continuare a mantenere aperte le attività. Questo è il veicolo, infatti la domanda è proprio pertinente, è un successo perché consente a noi attività di poter riaprire e di lavorare con più serenità. Tenuto conto che sono due anni che noi siamo nelle restrittezze, però che debba ricadere addosso al titolare della ristorazione la responsabilità per quanto riguarda il controllo del Green Pass, beh qui ci sta qualche cosa che secondo me dovrebbe essere rivista. Secondo voi chi dovrebbe fare questo controllo? Non certo lo titolare del ristorante, no, perché se io penso che se salgo sul pullman oppure su un aereo ci sta lo personale abilitato a fare questi controlli. Lo ristorante, il personale abilitato è chi fa la cucina e chi fa il cameriere, non può fare la guardia giurata. Cronaca adesso, gli agenti della sezione antidroga della squadra mobile diretta dal vicequestore Dante Cosentino hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio un 56enne di Pescara con alle spalle diversi precedenti penali e dal 2020 sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. I poliziotti ne osservarono da tempo le mosse, sospettando che l'uomo, residente del quartiere Rancitelli, fosse dedito ad attività di spaccio. I sospetti degli investigatori si sono rivelati fondati nel corso della perquisizione della sua abitazione. In un cassettino portaverdure all'interno del frigorifero sono stati infatti trovati sei panetti di hashish per un peso complessivo di 600 grammi. Sempre in cucina, l'uomo aveva nascosto un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento della droga. Ieri mattina l'uomo è stato giudicato con rito direttissimo e ha patteggiato la penna di due anni di reclusione e 4 mila euro di multa. Il giudice del Tribunale di Pescara, ritenendo elevatissimo il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ha disposto all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo, con persone diverse dai familiari conviventi. Restiamo a Pescara adesso perché il Comune ha attivato nei giorni scorsi un conto corrente dedicato per far risplendere la pineta d'Annunziana distrutto dall'incendio della scorsa settimana che ha messo in grave difficoltà la città. Intanto, con il ritorno delle alte temperature previsto nei prossimi giorni, il Comune mantiene elevata la soglia di allerta. Sindaco, intanto facciamo il punto della situazione, di come è ridotta la pineta d'Annunziana e se ci sono comunque ancora delle persone che sono attente lì e attente a non vedere che riprendano qualche ruolo. Purtroppo la pineta d'Annunziana, quantomeno la parte di riserva integrale, è andata totalmente distrutta. Quindi una perdita incredibile per la nostra città. Devo dire che è un dramma culturale, sociale, ambientale e quindi bisognerà lavorare molto per fare in modo che la pineta torni allo splendore dei giorni passati. Stiamo adesso verificando i danni. Abbiamo purtroppo dovuto tagliare le piante che erano pericolose per l'incolumità pubblica perché si trovavano a ridosso della strada ed erano danneggiate, tant'è che oggi abbiamo riaperto via della bonifica. Le temperature alte producono questi fenomeni che si amplificano poi con il vento come l'abbiamo vissuto noi purtroppo domenica. Il fuoco è partito lontano dalla pineta ed è arrivato in pineta, ma non soltanto in pineta, è arrivato prima al mare, sulla spiaggia dove non si poteva immaginare che arrivasse il fuoco e poi è entrato nella pineta. Non sono bastati gli interventi dei vigili del fuoco, delle tante persone che si sono gettate con il cuore per aiutare le forze dell'ordine, la protezione civile, non è bastato nulla. Io ho avuto veramente dimostrazioni di affetto e di legame con Pescara e con la pineta incredibili, ma già quando c'erano ancora le fiamme le persone mi hanno cominciato a telefonare dicendomi noi vogliamo partecipare, vogliamo aiutare, vogliamo dare un contributo, vogliamo dare una donazione, vogliamo esserci perché vogliamo che la pineta torni più bella di prima. E' per questo che noi in Comune abbiamo aperto un conto corrente dedicato alla rigenerazione della pineta annunziana, alla rinascita della pineta annunziana, proprio per far sì che le persone che vogliano dare il loro contributo possano farlo tranquillamente versando quella somma e sapendo che quella somma sarà utilizzata soltanto per la pineta con la massima trasparenza e con il massimo controllo. Parteciperà il Comune, ma parteciperà anche la Regione perché già si è messa a disposizione. Penso ai fondi europei perché l'intervento è un intervento molto importante per la nostra città, però questo segnale di partecipazione della comunità è un bel segnale per la nostra città. Andiamo a Teramo adesso. Dopo le dimissioni degli amministratori uscenti è iniziato l'ITER che porterà alla ricostituzione del nuovo Consiglio d'amministrazione della Teramo Ambiente. Prossima tappa l'Assemblea di martedì prossimo 10 agosto. Ascoltiamo a tal proposito il sindaco di Teramo, Gian Guido D'Alberto. C'è stata la prima assemblea della società in house che si è appunto limitata a prendere atto delle dimissioni e sulla base del nuovo statuto che prevede appunto la decadenza dell'intero organo di amministrazione, qualora venga meno la maggioranza dei componenti dell'organo stesso, di fatto abbiamo preso atto della decadenza del CDA, attribuito secondo statuto i poteri di ordinare amministrazione al collegio sindacale e abbiamo riconvocato l'Assemblea per martedì 10 agosto al fine di definire tutte le fasi successive, quindi per la ricomposizione dell'organo amministrativo uscirà l'organizzazione della nuova governance e si avvierà il percorso per la nomina dei nuovi amministratori che dovrà essere ovviamente gestito dal comune di Teramo sulla base di un avviso pubblico o di un bando che sarà pubblicato nel mese di agosto e quindi possiamo dire che nel mese di settembre avremo la composizione, la ricomposizione dell'organo amministrativo e quindi il passaggio, la chiusura del ciclo della Team mista alla Team in house che oggi è pienamente operativo si compirà e andrà pienamente a regime. La decadenza di oggi è una decadenza che deriva dalla norma del Codice civile, dallo statuto della nuova Team e quindi non ha nulla a che vedere con altre situazioni che seguono e seguiranno il loro corso. Questa domanda mi consente di ringraziare con tutto il cuore tutti i componenti del CdA per l'attività che hanno svolto nel corso di questi mesi, soprattutto in una fase delicata che ci ha consentito di raggiungere questo obiettivo straordinario di restituire continuità e prospettiva attraverso l'in house ad una società particolarmente complessa ma che deve avere davanti un futuro rosio attraverso una gestione al servizio dei cittadini e non della politica come purtroppo negli anni precedenti è stata la società stessa e ne abbiamo pagato le conseguenze nei primi anni, anche dal punto di vista operativo si va avanti, abbiamo installato altre due coisole in centro storico proprio per le attività commerciali al fine di ripristinare il giusto decoro al nostro centro storico ed evitare rimuovere quelle situazioni che da tanti, troppi anni per un'incapacità di programmazione di chi ci ha preceduto la nostra città ha vissuto. A distanza di poco tempo dal trasferimento nei nuovi locali il pronto soccorso dell'ospedale di Pescara denuncia l'Udc è nel caos. Nuova struttura, problemi vecchi, sono stato per problemi familiari in pronto soccorso dalle 5 del pomeriggio sono andato via alle 5 di mattina, una cosa drammatica, pazzesca, veramente il Vietnam, mi ricordano quei film che noi vediamo in televisione, gente sbuttata su lettini, infermieri che corrono da una parte o da un'altra, mancanza di medici, bambini che urlavano per il dolore senza essere visitati, rispetto del Covid assolutamente zero, eravamo tutti ammassati, quando si andava via una persona non venivano disinfettate né le carrozzelle né tantomeni sedili dove ci sedavamo, la struttura senza una finestra, guardate una cosa in decenni non ho mai visto una cosa del genere, veramente peggio probabilmente di quello che era il vecchio pronto soccorso, per cui ho chiesto insieme al collega Berardino Fiorilli di essere subito ricevuto da Laverini in un tavolo dal dottor Ciamponi che è il direttore generale, dal direttore sanitario ma soprattutto dal primario del pronto soccorso, loro devono trovare immediatamente le soluzioni perché la struttura c'è, bisogna aumentare il personale che io ringrazio, io penso che noi dobbiamo chiedere scusa ai cittadini di Pescara, che la AS deve chiedere scusa, non mi alzerò dal tavolo che si andrà a fare spero anche prima di Ferragosto, non che si trovano le soluzioni per risolvere il problema, che le soluzioni vengono attuate immediatamente, subito e soprattutto mi aspetto le scuse dell'ASA. Partirà il 31 agosto per concludersi il 2 settembre, Future Pop, il nuovo festival della cultura contemporanea organizzato dalle antemanifestazioni pescaresi. Ad esibirsi sul palco del teatro d'annunzio a Riete, Levante e Dardast. Assessore Cremonese, parte Future Pop, di che cosa si tratta? Come avevamo promesso in campagna elettorale, il Comune di Pescara ha investito tantissimo su eventi di altissima qualità e su eventi che potessero durare nel tempo per attirare turisti nella nostra città. Abbiamo creato una serie di festival, apriremo con il Willow Fest e proseguiremo con questo festival che è innovativo e fa la congiunzione tra il Willow Fest e il festival d'annunziano. Potremo vedere grandissimi artisti qui a Pescara in questo periodo, 5 grandi eventi per il Willow Fest, 3 grandi eventi per questo festival che vederà la presenza di 3 grandissimi artisti. Pescara continua ad essere protagonista e tutti questi festival lanceranno il festival della rivoluzione con grandissime sorprese. L'idea di futuro secondo me diventa centrale non solo del dato culturale, ma noi di questo ci occupiamo, quindi diamo la nostra piccola goccia e questo Future Pop è un titolo voluto da una parte per indicare in maniera molto generica la tipologia di musica di cui ci occuperemo, cioè la musica pop, rock, ma soprattutto l'elettronica, quindi la tecnologia legata alla musica e poi per lanciare questo nostro interesse per il futuro, cioè per dire che ci occuperemo molto di più delle giovani proposte, qui abbiamo per esempio Ariete che è una giovanissima, abbiamo Dardas che farà uno spettacolo che non solo musicalmente ma dal punto di vista musicale sarà molto impressionante, quindi con un forte elemento sull'elettronica. Poi resterà centrale comunque il pop, il pop di qualità, la canzone d'autore, cioè tutti i generi che hanno reso importante e popolare questo aspetto della cultura. Chiaramente tutti col Green Pass perché le regole sono molto ferre, abbiamo fatto un piano di sicurezza all'avanguardia, garantiremo posti sicuri, c'è un sistema di prenotazione, insomma tutto deve essere fatto nel rigido rispetto delle regole. Invito anzi tutti i cittadini a prenotarsi sui vari siti e a munirsi di Green Pass perché altrimenti non si possono accedere agli eventi organizzati dal Comune di Pescara e dall'ente manifestazioni pescaresi. Dal 10 al 18 settembre a Chieti Scalo ci saranno alcuni degli ultimi eventi dell'estate tiatina. Torna il settembre scalino durante il quale ci sarà anche l'esibizione di NEC. L'estate tiatina avvolgerà allo scalo, a Chieti tornano gli eventi scalini che animeranno nuovamente il settembre della città nel rispetto delle normative anti-Covid. Promessa mantenuta ha detto soddisfatto il vice sindaco di Chieti con delega agli eventi Paolo De Cesare. Dopo tanti anni torneranno e soprattutto torneranno con un programma importante, autorevole, sperando di esserci buttati alle spalle questa maledetta pandemia o comunque il periodo più brutto di questa pandemia vogliamo tornare in serenità e in massima sicuramente sicurezza ad organizzare manifestazioni per aiutare anche il tessuto commerciale cittadino portando tante persone in città. Gli eventi toccheranno diverse zone di Chieti Scalo, occorrerà prenotare e per effetto dei decreti legge vietato ballare. Si parte il 10 settembre con lo spettacolo di danza in Piazzale Marconi, l'11 Tribute Band di Adriano Celentano, il 12 si sibiranno i Quattro Santi a Brecciarola, il 16 serata dedicata all'associazione Enfas e Friends e il 17 serata di gala. Sabato 18 poi la Notte Gialla che coinvolgerà anche le attività commerciali e culminerà col concerto di NEC. Il momento più importante sarà il 18 settembre in occasione dei festeggiamenti del Santissimo Crocifisso a Piazzale Marconi, ci sarà il concerto a Notte Gialla con diverse iniziative, diverse esibizioni ma il tutto culminerà la piazza più importante appunto Piazzale Marconi con l'esibizione del concerto di NEC in acustico. E invece in questa settimana Montesilvano ospiterà dall'11 al 13 agosto Cerasuolo a Mare, la manifestazione del buon vino. Questa è l'ottava edizione di Cerasuolo a Mare, saranno 10 punti di degustazione del Cerasuolo e in questi 10 punti si troveranno le 37 cantine abruzzesi del Cerasuolo perché il Cerasuolo è il vino solo nostro, solo abruzzese, dove si potranno degustare quindi questi vini affiancati a dei menu fatti in piccole porzioni da parte dei punti che aderissono quindi degli stabilimenti balneari. Avremo il primo punto a Largo Venezuela con una petta immobile che fa gli arrosticini e continueremo stabilimento per stabilimento fino alla fine del percorso che sarà a Bagni Bruno. Tre giorni, 11, 12 e 13 di agosto, è una manifestazione che Montesilvano e gli balneatori di Montesilvano l'hanno pensata insieme a noi 8 anni fa, l'abbiamo realizzata, oramai è diventato un appuntamento regionale perché quest'anno si chiude a Montesilvano ma è iniziata il 23 di luglio a Silvi, poi Francavilla, Rosetto, Casalbordino, Fossacesia, Pescara e così via. Quindi una manifestazione che ci sta dando tante soddisfazioni come presenza ma soprattutto l'obiettivo è raggiunto far lavorare gli stabilimenti balneari per un'iniziativa di questo genere e far conoscere al turista il vino Cerasuolo. Torna a disposizione delle società calcistiche della città di Penne lo storico impianto Fernando Colangelo, scenario di indimenticabili partite negli anni 80 e 90. I lavori hanno riguardato la riqualificazione, gli spogliatoi e la posa del nuovo manto. In erba sintetica Stefano Recanati. Presidente, Sospiri oggi per questa bellissima opera qui a Penne è fortemente voluta anche da lei. Beh sì, non ci credeva nessuno, neanche Pezzi è l'amministrazione comunale e neanche la società di calcio, quindi sono felice che invece come sempre abbiamo mantenuto un impegno che ha una doppia importanza. La prima è dare una splendida struttura alla capitale dell'area vestina, cioè a Penne, come meritava. La seconda è quella di lanciare un messaggio a questi ragazzi che erano sugli spalti, che possono continuare a vivere a Penne perché avranno gli stessi diritti, gli stessi servizi, gli stessi spazi che hanno i loro coetani che vivono in realtà più grandi. Continueremo a cogliere gli obiettivi per Penne sia in termini infrastrutturali sulla viabilità che sull'assistenza sanitaria, sul rilancio dell'ospedale. Ci preoccupiamo molto il tema del lavoro su cui invece abbiamo ancora molti nubi da dissipare, però oggi è un giorno di festa e quindi godiamoci questo piccolo momento di festa. Oggi è un sogno che si avvera, in pochi credevamo all'inizio che si potesse realizzare quest'opera, invece abbiamo dimostrato che con la nostra caparbietà e la nostra volontà siamo riusciti nell'impresa. Come è stato detto, questo campo è destinato ed è dedicato soprattutto ai giovani, perché Penne ha bisogno di dare spazio in tutti i settori, nella scuola, nello sport, nel lavoro, ai giovani. Sono stati dei mesi che abbiamo affrontato, certamente non facili, ho detto all'inizio del mio intervento che i sogni bisogna crederci e io ci ho creduto, ma insieme a me ci ha creduto il Presidente Sospiri, ci ha creduto anche l'amministrazione, anche se all'inizio c'era un po' di incredulità da parte anche di colleghi dell'amministrazione. Alla fine, come tutte le cose in cui si crede, siamo riusciti a portare a termine questa opera in un momento negativo, perché questa opera è stata realizzata in un momento in cui tutto il resto della società, quindi lo sport, il commercio e tante altre cose erano completamente bloccate. Tutti adesso si ritroveranno questa struttura per poter affrontare qualsiasi tipo di attività. Ci si può anche adesso permettere di poter far giocare delle squadre importanti in questa struttura, quindi io sono soddisfatto perché in realtà ho rispettato quello che era la mia promessa, quella di dare a Penne una struttura in erba sintetica. Questo servizio ci introduce inevitabilmente alla pagina dello sport e calcio. Altra cessione per il Teramo, Simone Santoro va a Perugia in Serie B e dopo Diachite un altro protagonista della stagione passata sale di categorie. Resta il nodo Cianci, ma tra 48 ore la Lega Pro ufficializzerà Gironi e Caledari di terza serie. Dopo Diachite anche Santoro lascia Teramo per accasarsi in una squadra Umbra di Serie B. Se il Franco Magliano raggiungerà lunedì terni per indossare la maglia delle ferre, il centrocampista non abbandonerà invece il bianco-rosso, ma sarà quello del Perugia, altra neopromossa. Accordo raggiunto, il diavolo incasserà intorno ai 450 mila euro per lasciar partire la mezzala siciliana. Uno dei migliori talenti della Serie C è arrivato a fare spenti, voluto da Bruno Tedino che ne aveva intuito già ai tempi di Palermo le grandi potenzialità e che ora va a rinforzare l'organico di Massimiliano Alvini in vista della stagione alle porte. A proposito di stagione, quella di Santoro al netto dei tre gol messi a segno all'esordio proprio col Palermo, con la Turris e con la Ternana è stata la costanza e l'imprescindibilità che ha colpito in un settore del campo nel quale comunque il Teramo ha sempre avuto buone alternative che avrebbero potuto mettere in difficoltà un ragazzo di 22 anni. Invece Santoro per larghi tratti è stato l'anima del diavolo, molto più di tanti più esperti di lui e questo non poteva non attirare le attenzioni della cadetteria. Ci ha provato il Brescia, complice anche all'ottimo rapporto tra le rondinelle e l'ormai ex direttore generale Andrea Iaconi. Ci è riuscito il Perugia in un incastro che vedrà nel sentitissimo Dermi Umbro una sfida nella sfida tra Santoro da una parte e Diachite dall'altra. Nella lista dei partenti a questo punto mancherebbe solo Pietro Cianci ma qui la questione cessione sta diventando un intrigo. Diachini ha alzato la richiesta per l'attaccante sapendo di dover dare la metà di quanto incasserà al Sassuolo che non solo non ha riscattato la punta a 500.000 euro ma addirittura aveva pattuito la metà sulla futura rivendita. Conoscendo bene la situazione il Teramo deve per forza di cose giocare un po' a rialzo ma questo ha già fatto sfumare due trattative sicure, Palermo che ha preso Brunori e Padova. Resta il Catanzaro. Il presidente giallorosso noto ha avuto un colloquio con il suo omologo Teramano che ha alzato ulteriormente la posta e la situazione adesso è davvero complessa. I calabresi stanno per mollare la presa, alternative ulteriori non se ne vedono e tutto sommato Federico Guidi di un attaccante avrà pur bisogno considerando che più i tempi si allungano e meno spazio c'è per trovare l'eventuale sostituto di un Cianci che tuttavia dato per partente dalla dirigenza stessa e dallo staff appena presentato non smania certo dal desiderio di rimanere in Abruzzo. Intanto con gli arrivi di Rillo, Cucurullo e Azi Osmanovic con Tozzo tra i pali che dovrebbe rientrare nella trattativa di Akite qualcosa a Teramo inizia a muoversi. Oggi il presidente federale Gabriele Gravina ufficializzerà le esclusioni di Carpi, Casertana e San Benedettese con i ripescaggi di Latina, Lucchese e Fidelisandria. Il quarto posto, quello che sarebbe stato del Novara se lo giocano Fano e Pistoiese ma i marchigiani devono vincere il loro di ricorso. La quinta piazza che del Cosenza ha promosso d'ufficio in Serie B dopo il forfè del Chievo Verona sarà del Siena, con la Toscana dunque che dopo l'ultima sciagurata annata riconquista rappresentanti nella terza serie. Lunedì alle 11 il consiglio direttivo della Lega Pro definirà la composizione dei tre gironi del campionato di Serie C 2021-2022, appena il tempo di scoprire il volto dei club che per tutta la stagione si affronteranno sui campi, che alle 19 saranno svelati anche i calendari del prossimo campionato. Nel girone B ci saranno X e Y per il momento, esattamente come 12 mesi fa nel girone C, posti che poi furono di Foggia e Bisceglie. E a Pescara due giorni di riposo sono stati concessi dal tecnico Gaetano Uteri dopo il test in famiglia di ieri al Poggio degli Olivi contro la Primavera. La prima squadra si è imposta per 4-20-1 con i gol di Di Grazia, Dursi, Frascatore e Ferrari di sagliare il gol dei baby di Gigi Ervese. Lunedì la squadra tornerà a lavorare, sempre ieri sono state perfezionate le uscite. Vincenzo Fiorillo a titolo definitivo alla Salernitana e quella in prestito, lo vedete nella foto, di Edgar Elizalde che torna in patria in Uruguay dove giocherà per una stagione con un club blasonato come il Peñarol. Parliamo di volley, adesso anche l'amministrazione comunale di Montesilvano ha voluto celebrare la promozione in B2 femminile della Ceteas. Si rinnova la forte tradizione pallavolistica della città adriatica. Sergio Zappalorto Sindaco Ottavio De Martini sicuramente sarebbe bello che dopo questa impresa se ne portassero avanti altre, ma io ritengo comunque che la Ceteas Voli Montesilvano oltre a questa impresa di carattere prettamente sportivo ne ha portato avanti un'altra, anche questa molto importante che è quella di coinvolgere la città, di regalare ai nostri ragazzi delle belle emozioni. Ho conosciuto tanti sindaci che hanno parlato bene delle squadre di varie attività sportive e diciamo così cavalcando l'onda, invece tu sei veracemente un tifoso, cioè a te piace proprio lo sport e in questo caso, visto che ti fiamo per la pallavolo, diciamo pure che l'obiettivo da raggiungere, come dicevi poco fa, è quello di arrivare il più in alto possibile. D'altra parte Montesilvano fa rima con lontano. Allora sì, intanto io sono un grandissimo appassionato di sport, ho praticato sport, sono stato calciatore, sono stato allenatore di calcio e quindi conosco quello che ruota attorno al mondo dello sport, sacrificio, passione, gruppo, coinvolgimento, amalgama, quindi tutti questi elementi, senza questi elementi non si va lontano, come dicevi utilizzando un termine che hai utilizzato tu poco fa e lontano ci si arriva appunto col sacrificio, con la passione e la CETESVOLLE ha dimostrato di avere tanta passione e da tifoso, oltre che da amministratore ce la metterò tutta e ce la metteremo tutta affinché si possono raggiungere i traguardi e andare lontano da tutti i punti di vista. Montesilvano è una città di sport soprattutto, ci mancava la ciliegina e è arrivata con la pallavolo, una bellissima soddisfazione, peccato per la maschile, ci riproverà. Verissimo, Montesilvano è una città a tutti gli effetti sportiva, non ci piace da questo punto di vista perché non siamo ancorati, magari come molte altre realtà, solo ed esclusivamente al calcio, ma anzi questa amministrazione sta cercando di promuovere e spingere verso l'alto tante altre realtà, come ad esempio la pallavolo che quest'anno ha raggiunto risultati importantissimi e noi abbiamo cercato di dare loro tutto il supporto burocratico e amministrativo per quello che riguarda gli impianti, per quello che riguarda anche partnership per sponsorizzazioni per cercare di puntare più in alto, per cui fortunatamente i risultati sono iniziati ad arrivare, è detto bene, peccato per la maschile, ci riproveremo, ci riproveranno il prossimo anno sicuramente, però è già stato un ottimo risultato quello raggiunto della squadra femminile perché la B2 inizia a essere già una categoria nazionale di una certa rilevanza, poi la pallavolo a Montesilvano ha una tradizione importante per cui noi abbiamo i tempi della Serie A2, esattamente, col sindaco abbiamo deciso di puntare forte su questo sport, su questa realtà che è la CETA Svoli e certamente continueremo negli anni perché con ambizione vogliamo arrivare lontano. E' tutto per questa prima edizione del nostro telegiornale, vi ricordo che i servizi che avete visto tra poco saranno online, on demand, sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento alle ore 19, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata. Prossimo aggiornamento alle ore 19, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.